A piccoli passi, la Presidente Sonia Giordano, dopo l'azzeramento dello staff tecnico e dirigenziale e dopo una serie di incontri con alcuni imprenditori, ha iniziato a buttare le basi per la nuova Acregas. Lunedì, in tarda serata, ha infatti comunicato di avere assegnato i nuovi ruoli. Si tratta quello di direttore sportivo e di responsabile tecnico, che avranno il compito di modellare la nuova rosa di calciatore e anche a scegliere il prossimo tecnico biancazzurro. Si tratta di due figure, da sempre nel mondo del calcio, che hanno sulle spalle esperienze di rilievo. Il primo è Peppe Camarata, considerato uno dei migliori direttori sportivi della Sicilia e che ha lavorato con il G, la Licata, Nisse e la Cireale. Responsabile dell'area tecnica, invece, è Lello Patex, calciatore di Agrigento e Acregas. Tutte azzerate, dunque, le scelte fatte in precedenza, come quella riguardante il tecnico Pippo Romano, ufficializzato insieme ad alcuni calciatori. Nelle prossime ore, recitare il comunicato stampa, sarà ufficializzato il nome del nuovo tecnico. Sin qui, le uniche novità in casa Acregas, che quanto prima diramirà altre novità di rilievo.